La prima edizione, quella del 2013, fu una rivelazione, la seconda una conferma e la terza, su cui è calato il sipario domenica sera, è stata la consacrazione del fenomeno Villa Bertelli, i cartelloni di concerti e spettacoli ormai affermato protagonista dell'estate versiliese. Il bilancio tracciato dalla fondazione di Forte Remarmi è tutto positivo, 22 appuntamenti, più di 20.000 presenze, 20.000 spettatori paganti, ben 10.000 in più rispetto allo scorso anno, 5 i sold out, con Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori, Renzo Arbore e i The Colors, le giovani star di Amici che hanno sfondato quota 2.200 biglietti venduti. La scelta di artisti pop, talvolta snobati dai paecoscenici della Versilia, alla fine è risultata vincente e per il 2016 si punta ad aumentare ancora l'asticella della qualità. Un successo decretato dalla gente che è venuta d'estate qui a Forte Remarmi in Versilia, e non solo in Versilia, perché abbiamo visto presenze che venivano da gran parte della Toscana. Il 2016 è un po' prematuro parlarne, però io e il Consiglio ci stiamo già lavorando e stiamo lavorando anche sull'onda di entusiasmo dell'edizione di quest'anno. Con questi numeri c'è già chi parla di gara con la versiliana, ma la nostra non è una brutta copia del festival, né una concorrenza, ha spiegato il sindaco Umberto Buratti, bensì un'offerta complementare che arricchisce la stagione degli eventi in Versilia. Come sindaci, come amministrazioni ci siamo anche di recente incontrati e si è detto, si è parlato dell'importanza di avere una condivisione tra tutti, perché la Versilia vince se riesce ad essere unita a condividere anche iniziative. C'è una crescita per tutti, ma soprattutto riusciamo anche a vincere quello che molte volte viene un po' contestato a tutti noi di lavorare a compartimenti in stagio.